Uno sguardo velocissimo sempre da Barcellona al Mobile World Congress per lo ZTE Open 2 che vediamo soltanto diciamo in versione demo, non ancora utilizzabile Uno smartphone che dovrebbe essere sicuramente di fascia entry level con dimensioni 118x61x10.5 Display 3.5 pollici HFGA TFT Batteria da 1150 mAh Firefox 1.3 Il processore dovrebbe essere un MSM 8210 Memoria 256 MB di RAM e 2 GB di ROM Una camera da 2 megapixel, probabilmente a fuoco fisso, non sappiamo Bluetooth 3.0 e Wi-Fi monoband BGM GPS e accelerometro Un semplicissimo tour delle caratteristiche hardware Bilanciare del volume, tasto accensione e spegnimento Jack audio Lado pulito Microfono Micro USB E semplicemente lo speaker per parlare Unico tasto per gestire il multitasking e per tornare indietro come Firefox OS ci insegna Un saluto da Gabriele per Android Blog A presto Ugo A presto